bene ragazzi qui erone bentornati in questo nuovo video qui con me anche oggi il dreddone anche oggi come l'altra volta come la sfida dell'ignoranza che abbiamo fatto recentemente oggi torniamo in veste schillata oggi sfida dell'ignoranza che così ignoranza non sarà a livello di squadre perché ci serviranno gli skiller ma su volta football oggi faremo da un destro in bocca devastante la gente se l'ha dimenticata ma per giocarla for fun con gli amici per far cazzate è perfetta oggi skilleremo dreddone con il paris saint germain neymar messi imbappé io con il è un altro io con il match united per favore non sciogliere campo con ronaldo rushford sancho anthony tutti skiller assurdo una squadra mai visto iniziamo con sopravvivenza 5 contro 5 dove ognuno perderà un giocatore nel momento in cui farà gol un bel like dobbiamo raggiungere i 15 mila like come nello scorso episodio della sfida dell'ignoranza per averne altri con la porticina piccola o la porta un po più grande al festival dell'arte con le barriere poi faremo più partite la prima partiamo così poi le altre facciamo anche 3 contro 3 proviamo gli stadi proviamo roba anche tu hai optato per la y me l'ha messa così io mi fido ci sta bene manchester paris saint germain si trovano ho visto anche che quassù volte sono un paio di skill dedicate a volta che le facciamo vedere in un secondo va che belle ama perché era questa eccoci qua e poi c'è altra poi c'era tutte queste cose qua che che tu vedi pop 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 che puoi fare soltanto qua che è un po come si gestisce e poi abbiamo tutte queste cose qua fantastico si inizia subito la gente che non sa skillare poi a casa può skillare con un tasto skill automatico in questa realtà io non lo farò io userò tanto le skill che conosco io quello che avete dal verdone le spamma a caso io le spammo le sto spammando io invece voglio fare effettivamente quello che cazzo ma perché i difensori vanno come cazzo gli pare te lo dico attenzione ronaldo da lontano faremo 20 partite ma dovremo trovare le cose più belle della storia di volta oggi è cazzo messi oddio messi porca droga mamma mia è donna ruma la tocca quel che basta è così difficile no roma ancora uno dei due vincerà però vincerà lo spettacolo e voi nei commenti dovete dire chi avrà performato meglio a livello di spettacolo è lì che sta facendo il passo fine primo tempo ci siamo studiati madonna madonna donna sì quel portiere in porta una porticina piccola sì come rigori ma come fai che significa di bloccarla lì così tre rigori tra l'altro è ma che belli rigori barata con donna ruma rimanessi ferma dovrebbe riuscire no killian andiamo a vincere ragazzi rigori una grande mozione allarghiamo le porte maschi con le barriere porte grandi sempre sopravvivenza adesso sono sicuro che segneremo ok il campo è delle grandi occasioni la porta a 11 campo da 5 stranissimo ma qua c'è molto più spazio di prima zio è più grande il campo l'ho ucciso posso tirare sì ma è molto più facile segnare molto più grande il campo aiuto su me non è più grande il campo no no su me è uguale bello cristiano che con una skill pazzesca illumina il gioco che è perché vara ciò varando avanti perché perché ma è l'ho messo in difesa attirano normale ok sì no un pazzo criminale sulla rete molto bello lì ho la finta questo schema è un po' troppo bellissimo cristiano ronaldo il primo gol e mo cambappe è un bel gol se ne va ronaldo saluta a tutti ciao immagino quando saremo uno contro uno che cazzo succede aia subito no per te ho fatto così non ho fatto niente ciao marchini non ho fatto facesse gol di tacco bello tu ne era aiuto fermalo nei marra che ha deciso di fare chiediamo scuse vicini ci ha portato nell'angolino e poi ci ha fregato a entrambi con conclusione sforbiciata ovviamente tutto ricercato nelle mie mani e finisce il primo tempo scartare dal dal cosa non ci credo varanne donna roma mi ha fatto una delle parate giusto perché non voglio levare dei coglioni varanne voglio rimanere con quelli che skillano meffi e questo qua è pericoloso ragazzi è di una rapidità non sappiamo difenderlo meffi nooo non me lo puoi fare no zi no non accetto il portiere dove è finito meffi 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 ma il portiere cosa fa è che è alto un metro e novantotto no donna roma l'uomo in più in effetti c'è anche donna roma no fermatelo ragazzi basta nooo fa quello che vuole nooo la salva sancio mappè si deve quanto piatto te serve per fa' sta cosa bello e via adesso è uno a uno così divertentissimo raga adesso uno con ah c'è anche il portiere fuori qua per battere eh ma zi ma chi cazzo figlio il mappè qua con un rushi eh niente no de che però de che cosa ha fatto questo per questa persona questo giocatore con tanta umiliazione in unica azione questa è infazzesca si va avanti perché eh si si va avanti adesso si continua all'infinito fino a che non finisce il tempo dai 12 secondi merda 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 no merda no nooo 5 secondi finisce finisce qui 4 a 3 per il farissaggio ormai con uno dei gol più belli secondo me fantastico cambiamo in un'altra porta grande un altro stadio una vittoria a miei rigori una vittoria a tua sul campo schiacciante devo dire per il punto di vista lo spettacolo questo campo molto bianco tu devi dare il cazzo con le palle alte attenzione attenzione oh oh come si fa come si fa il cross così ma lo fanno anche su live normale questo però con con scorpione finale questo attualmente è il gol del giorno prova a far di meglio prova a far di meglio ma perché fa una capriola è meglio ma va lì è molto più semplice questo è il gol del giorno ragazzi obiettivo scorpione adesso ronaldo che fa ma importa coglione rabona rovesciata non ho messo donna luna ci ho provato ma oh mamma ma che stai a dire vabbè zi è clamoroso ma che gol è boom ma ma no aspetta ha fatto una finta di testa e l'ha presa con l'altro piede l'ha presa con il sinistro volante clamoroso calcio spettacolo questo campo bianco mi rendo veramente strano cieco si è completamente sbagliato tutto zio ma non va sul giocatore bene ho notato che il tuo portiere è andato a pave vabbè fa un po' il cazzo che vuoi zi si era mimetizzato con i cartelloni odio bruno puttana dio ma anche da dietro si può fare allora oh no no zi questo è umiliante non c'è gente che difenda cioè puoi passarmi attraverso ma basta ste cose ma lui io mi lasso io ma fai sempre il tasto ooooh ma vado a essere fermata minca l'ultima parata zio zio no no è finito il tempo nel contropiede contro il zio sarà un ottimo supplementare quello che ci aspetta adesso aia eh zi mannessi qua allora eh mo dobbiamo far per forza il pareggio ragazzi adesso mi rimane sarà sarabbia perché ora sarabbia dovrà mettere alla prova le sue capacità che schiava è? mistico oh caproia navas ma che fa? oh con capriola sancio contro sarabbia no la parata una parata pazzesca no sarà fallo netto ma è finita ancora rigori in due tiriamo all'infinito oh cazzo ma qua c'è la porta grande l'ho curvata zio stuc ma tiravo pianissimo De Gea questo va abbastanza veloce oh perfetto eh ma di una precisione sublime qua clamoroso può già perderla il Manchester e andiamo a perderla così un rigore a testa un rigore a testa zi facciamo l'ultima senza portieri 3 contro 3 campetto piccolo ben 38 persone a vedere al centro di Parigi Gimbappé Neymar Messi Ronaldo che si scontano con Ronaldo Sancho e Rashford il pianone si va e un po' qui si parla di vero street football eh qua è tutto molto contenuto zi rispetto a prima è molto qui è youtuber league eh no come si chiama pallone d'oro degli streamer che fai Mato? bel gol bel gol bel gol lo possiamo dire ci incaglia un po' sulla porta sul muro attenzione a Cristiano c'è una Sancho come per fare quella cosa e levo non basta si ehi madonna stava per entrare dai easy Sancho se me ne fai 5 da un cazzotto in bocca ripartiamo mettici ah si come fanno ad entrare questa palla Neymar costa 180 milioni easy uuuu dai che l'hai presa no hai fatto frame laggare il personale vabbè si però eeeh è da terra vabbè comunque era un un bel gesto da parte del Manchester United un'azione dura un'ora e mezza e lui arriva tu ultimo tempo di questo incredibile episodio eeeh eeeh che gol mi ha fatto Kilian qua dove è passato Kilian si trasforma in un fantasma ma va dove cazzo è passato qua e qua riesci anche a metterla lì non è spiegato in un'elevanzo tipo nooo ma come zii Kilian Mbappe il giocatore più forte del mondo se l'ha alza ma va dove cazzo è passato nell'unico millimetro disponibile esatto esatto bello Ronny mi ha un culato no la porta zii no ha tirato era un tiro la porta ragazzi chiudi la porta la porta è tu madre quando entri in cucina esatto un bel numero no sono andato a vuoto dai che culo un gol completamente a culo aiuto ma questo è un tiro a caso nooo questo non ci sto nooo 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 ci sono fatti riprendendo i gol in un secondo ragazzi nooo oddio ha visto l'ha fatto si sta rampinando oddio ha fatto spiderman ha fatto spiderman dove andate la porta è completamente da un'altra parte nooo ancora in pareggio basta zii chi segna vince oh no che momento chi segna vince è momento di crisi sarà uno dei gol più brutti dell'anno si lo diciamo avvertiamo il pubblico a casa sarà un gol bene ahhh come è un cazzuzzo la cosa più tryharding è una storia tirà in porta fin quando non entra e finché giochiamo così ma chi segna vince ti mette quel ansia devi fare gol va bene signori grazie mille per aver visto il video spero anche che siete divertiti noi un tot sincero un like signori 15.000 like nuovi episodi col dreddone su fifa e non gli altri li trovate comunque negli altri giorni sul canale perché abbiamo fatto i video in ufficio e sul suo canale sia fifa che video nell'office ciao alla prossima signori grazie ciao ciao